allora ragazzi se vedete questo video potete anche non mettere like perché questo è un video che volevo dedicare a un mio amico perché questo mio amico che si chiama Massimo mi ha bloccato senza motivo ed è da stamattina, da ieri a mezzanotte che non risponde al telefono mi ha bloccato e invece agli altri miei amici no, quindi volevo dire una cosa Massimo se stai guardando questo video sbloccami e non bloccarmi più